Un discorso ricco di spunti per i giovani del Pontificio Seminario Campano di Posillipo è stato quello offerto dal Papa nell'udienza in Vaticano. Ricordando che questo è l'unico seminario in Italia diretto dai gesuiti, ne ha sottolineato anche l'interazione con le chiese diocesane, evidenziando l'importanza di camminare insieme in un autentico spirito sinodale. Tre, le indicazioni suggerite da Francesco. L'amicizia personale con Gesù per scoprire meglio, detto, il nostro nome nuovo, quello più autentico, non solo nozioni, perché non si è un dizionario, ma un guardare in faccia la verità della vostra vita, in trasparenza verso se stessi e gli altri, fuggendo la tentazione del formalismo e del clericalismo che sono la radice della doppia vita sempre. Poi cercare il regno di Dio, che significa rifuggire la logica della mediocrità e aprirsi a scoprire i grandi sogni di Dio per noi. L'inquietudine, aggiunto il Papa, allarga l'anima e la fa più capace di ricevere l'amore di Dio. Necessaria però la libertà interiore verso i beni, perché il diavolo entra dalle tasche e poi si arriva alla vanità, all'orgoglio e alla superbia. I giovani che hanno scelto di seguire Cristo, ha rimarcato il Pontefice, amano i poveri e sono chiamati ad essere testimoni di povertà attraverso la semplicità e austerità della vita. Ma prima ancora, sottolineato il Papa, ci vuole il discernimento, che significa conoscere anche le proprie paure, i propri affetti, ed essere coraggiosi, fuggendo le vie più comode e riduttive del rigorismo e dell'assismo. Dunque esporsi per capire come Dio sta parlando in questi tempi. Oggi, più che mai, lo ha detto il Rettore, il sacerdote è chiamato a guidare il popolo cristiano nel discernere i segni dei tempi, nel saper riconoscere la voce di Dio nella folla di voci spesso confusse che si accavalano con messaggi costantanti tra loro, nel nostro modo caratterizzato da una pluralità di sensibilità culturali e religiose. Grazie. 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 Grazie.